Una scelta scelerata di Alice e IOP che hanno deciso di non ratificare la preintesa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale che gli operatori della sanità accreditare di tutta Italia aspettano ormai da 14 anni. I diritti dei lavoratori non vanno in vacanza, quindi oggi 24 agosto siamo qui a manifestare contro Alice e IOP cercando di forzare questa frenata nella firma della preintesa perché i lavoratori sono in servizio, hanno supportato ovviamente l'utenza campana durante l'emergenza coronavirus, sono stati chiamati nei giorni della pandemia eroi, per noi non sono degli eroi, per noi sono dei lavoratori.